Editoriale Petrolchimico favorire gli investimenti della raffinazione. La mozione è di grande valenza per la Sicilia che vede nel suo territorio grandi poli di raffinazione che arriscano la chiusura in luogo della riconversione. Per il rilancio dell'area industriale siracusana vi è infatti il concreto rischio di disimpegno delle società multinazionali operanti nell'area del cosiddetto polo petrolchimico di Siracusa. La mozione è prima firma prestigiata come stata siglata da numerosissimi deputati e votata da tutti i gruppi della maggioranza e anche da Fratelli d'Italia ed è chiara concerne l'impatto della transizione ecologica sul settore dell'industria pesante con particolare riferimento al settore della raffinazione, petrochimico e bioraffinazione. La stessa Unione Europea ha istituito un fondo per la transizione giusta per far fronte all'impatto sociale ed economico della transizione. Per la nostra regione che raffina quasi la metà dei prodotti petroliferi del paese si tratta di assicurare la difesa dell'ambiente e degli obiettivi della transizione ecologica ma difendendo al contempo sviluppo e occupazione. Gli industriali sono fortemente preoccupati di come accompagnare quei settori che hanno maggiore difficoltà ad abbattere le emissioni di gas e quindi un dovere e una responsabilità senza una serie di programmazioni di investimenti. Pensare di affiancare al fondo di una transizione giusta anche un fondo europeo dedicato al sostegno di quei settori che per caratteristiche produttive hanno bisogno di più tempo e di ingenti investimenti soprattutto tecnologici per riconvertire i loro processi deve essere una cosa ragionevole. Riflettori puntati al comparto della raffinazione del petrolio che spesso è dipinto da alcune forze politiche e associazioni come brutto e cattivo però durante la pandemia ha alimentato giorno per giorno il nostro paese. Oltre al 95% dei mezzi di trasporto leggere e pesanti, aeree e navali in Italia si muove con carburante di origine fossile. Pensiamo però a un settore che non resiste ideologicamente, questo mai al cambiamento e alla transizione che non si oppone alla decarbonizzazione e che da tempo lavora per una sorta di rinascita in una nuova veste coerente con un paese che corre verso la decarbonizzazione. Ricordiamo che oggi il comparto della raffinazione e della bioraffinazione occupa 20.000 lavoratori oltre all'indotto in alcune aree, in Sicilia in particolare ma anche nel Verento, a Porto Marghera, alle spalle di Venezia rappresenta un asset strategico di un intero territorio. Il futuro di quegli stabilimenti è orientato ai low carbon fuels e nell'ambizione possibile di trasformare aree altrimenti destinate alla decadenza ad una rinascita come hub energetici anche attraverso le evoluzioni nel campo dell'idrogeno. Sostenere anche attraverso i fondi del PNRR la produzione di carburanti avanzati, innovativi, ecologici, a basso contenuto di carbonio anche attraverso l'uso di materie prime biologiche rifiuti da un lato quindi la produzione ma incentivarne l'uso è una combinazione di scelte chiave che per non mortificare la ricerca in corso salvo a guardare l'eccellenza del nostro Paese nel petrolchimico e nella biorraffinazione. Nelle more la mozione approvata quindi oltre a richiamare il Governo all'attuazione delle norme previste nella legge di bilancio 2021 volte a favorire gli investimenti della raffinazione nel mezzogiorno occorre ribadire un più fermo e ampio principio. Il dibattito si sposta su questa mozione affinché sia un pezzo ben più ambito che il Governo con il Parlamento possa portare avanti verso scelte responsabili che guardano davvero al futuro del Paese con investimenti consistenti e non con ideologismo.